Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere come poter configurare PRTG con Telegram per poter far sì che PRTG ci invii le notifiche su Telegram. I passaggi non sono molti, non è molto complicato, solo bisogna stare attenti a alcune cose. In più, io ho visto alcuni video su internet, in realtà ne ho visto uno solo, quello che mi sembrava il migliore, che però se te provi non funziona, c'è poco da fare. Quindi andiamo a vedere come si configura sia Telegram che PRTG e come funziona. Allora, per prima cosa andiamo a configurare Telegram. Questo nel frattempo, come vedi, è il mio PRTG che c'è soltanto qualche sensore così di default. Allora, apriamo Telegram e scriviamo qui botfat, che sta per botfather. E clicchiamo. Poi clicchiamo start. Qui scriviamo slash new bot. Allora, adesso dobbiamo specificare sia come si chiamerà il bot, sia l'username del bot. Io per esempio lo chiamerò crazynet PRTG bot, sia username che il bot. Li chiamo entrambi uguali. Faccio ok. Poi ancora il username o il nickname. E qui abbiamo il nostro API. Ok. A questo punto noi facciamo questa cosa qui, che è molto importante. Dobbiamo rimuovere la privacy. Quindi facciamo my bot slash my bot e premio invio. Questo è il mio bot appena creato. Clicchiamo sopra. Poi andiamo su bot settings. Andiamo su group privacy. E clicchiamo su turn off. Finita la storia. Ecco qua. Semplice. Adesso dobbiamo creare il gruppo, nel quale poi inseriremo il nostro bot. Allora. Clicchiamo qui e facciamo new group. E scriviamo, per esempio, io lo chiamo PRTG logs. E next. A questo punto io aggiungo il mio username, quindi il bot che ho creato. E premo ok. Qui sulla barra di ricerca vado a cercare il mio gruppo. Allora, questo come vedi il bot. Ah, scusatemi. Mi sono un attimo distratto. Allora. Qui sul gruppo PRTG logs. Vedi qua su ci sono due membri. Devi assicurarti che ci sia questo messaggio. Has access to messages. Perché se non ha questo messaggio, non siamo in grado di inviare messaggi. Qui sul gruppo di telegram. In questo caso sul gruppo di PRTG logs. Poi. A questo punto dobbiamo andare qui sul nostro browser. E il link che io adesso vado a copiare, tu lo troverai poi in descrizione. Allora. Qui su questo link dobbiamo inserire la nostra API. La nostra API che la troveremo qui dentro il bot. Eccola qua. Perfetto. Perfetto. Qui. Allora. Bot. Incolla. E vedremo che ci restituirà un messaggio che è vuota. Perfetto. No, scusatemi. Questo è send message. Get updates. Allora. Come vedete io ricevo messaggi in continuazione. Ok. È vuota. Allora. Noi dobbiamo cercare l'identificativo della chat che ci servirà per PRTG. Allora. Andiamo qui su un'altra volta su Telegram. Scriviamo. CrazyNet PRTG Bot. Che è il nostro utente. Qui premiamo Start. Slash Start. E poi scrivete qualcosa. Non ha importanza cosa ci scriverete. Qualsiasi cosa. Poi. Facciamo aggiorna. E vedi che qui. Ci appare. Un. Un sacco di cose. Ora. Quello che noi abbiamo bisogno. È. Che il first name. Ci sia scritto. CrazyNet PRTG Bot. Se non appare. Quindi se tu non lo vedi. Ti faccio vedere come forzare un po' la mano. Cerchiamolo. Io non lo trovo. Tanto non c'è. Ok. Allora. Siccome non c'è. Allora si fa così. Guarda. Fai. Vai qui sul gruppo. Vai qui sui membri. Qui. Sul. CrazyNet PRTG Bot. Gli dici. Promote to admin. Promote to admin. Ok. Poi. Chiaramente. Il gruppo. Devi settare la privacy. Per non farlo vedere a nessuno. Eccetto che. Quelli che entrano nel gruppo. Va bene. A questo punto. Io. Ah. Scusatemi. A questo punto. Invio altri messaggi. Sul. Sul. Dal bot. Ma sinceramente. Non sono. Non dovrebbero essere necessari. Ok. Faccio. Aggiorna. E. Vedremo. Che. Da qualche parte. Troveremo una cosa così. Vedi. CrazyNet PRTG Bot. Eccolo qui. Il mio bot. E. Quello. Di cui. Io ho bisogno. È questo. È questo numero qui. E. Lo. Si conosce. Perché ha un trattino davanti. Ecco. A questo punto. Io. Lo copio. Così. Semplicemente. E. Lo vado a incollare. Qui. Sul. Block. Notice. Che tu. Al momento. Non vedi. Ma. Ce l'ho. Ma c'è. Poi. Andiamo adesso. Su PRTG. Praticamente. La configurazione. È. Praticamente. Fatta. Allora. Andiamo su. Setup. Notification. Notification. Template. Ok. Poi. Andiamo qui. Su. Add. Notification. Template. Quindi. Ne creiamo uno nuovo. E scriviamo. Telegram. Poi. Poi. Scorriamo giù. E selezioniamo questo. HTTP. Action. Allora. URL. URL. È questo. Anche in questo caso. Dobbiamo copiare la nostra IP key. Che la ritroviamo. Qui. Su. Bot. Father. Copia. E andiamola. A incollare. Poi. Selezioniamo. Post. Qui. Dobbiamo mettere. Il nostro. La nostra. Il nostro payload. Con la nostra IP key. Ora. Io. Copio. E incollo. Questo. Che è solo un esempio. Poi. Tutti i payload. Sensor. Deviling. Sensor. Device. Eccetera. Eccetera. Si trovano sul sito di PRTG. Vedi qui. API. Io. Lo. Cancello. Tutto. E. Vado. A. Incollare. La mia. Nuova. API. Così. Semplicemente. E faccio. Create. Poi. Qui. Sulla campanellina. Io. Faccio un test. E vedo se funziona. Ed eccolo qui. Funziona. Sono in grado di inviare messaggi. A questo punto. Vado qui. Sul route. E vado a verificare. Se. Qui. Sul route. Come vedi. Vado a verificare. Poi. Sul. Notification triggers. Se ho tutti i sensori. Cioè. Tutte le impostazioni. Che io voglio. Che il bot. Risponda. In questo caso. Se va giù. Se il link è down. E se il link è up. E. Invia tutto. A. No notification. Quindi. No. Qui. Io metto. Telegram. Telegram. Ancora. Telegram. E. Same story qua. Telegram. Telegram. E Telegram. Ok. Adesso. Possiamo provare a. Per esempio. A fare così. A mettere questo in pausa. Test. Pausa. Per esempio. Certo. La descrizione non è mandatoria. Non è obbligatoria. Ed ecco qui i messaggi. Vedi. Ho ricevuto i messaggi. Che il sensore. PRTG. Qui. Sensor. Non me lo viene. Non me lo scrive. Unicamente. Perché. Andrebbe specificato meglio. Io l'ho solo fatto per scopo dimostrativo. Ma poi. Se tu. Ti interessa. Lo puoi fare. Vedi qui. Il sensore. SSL certificate. Che è questo. E. Poi. HTTPS. E poi. Man mano. Mi li farà vedere tutti. Questo. Il sensore. Dovrebbe essere ping. In teoria. Ora. Perché non me lo fa vedere. Questo è strano. Vabbè. Comunque. Poi dopo. Stessa storia. Se io rifaccio. Resume. Lui. Quando torna su. Mi dovrebbe mandare. Dopo 10 secondi che è su. Le notifiche. Stessa cosa. Se io faccio. Per esempio. Per il gateway. Dovrebbe essere la stessa identica cosa. Pause. Ed ecco qua. Le notifiche. Vedi. Queste app. Perché è tornato app. 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 E app. Poi dopo. Ora appariranno quelli del down. Invece. Che sono questi del. Del gateway. O. Sì. Credo gateway. Ecco. Questo è come poter. Aggiungere. Telegram. A PRTG. Semplicemente. Le. I link. Per. Che ho. Copiato qui. Li troverai in descrizione. E per il momento. È tutto. Se il video ti è stato utile. Lascia un mio piace. Se non sei iscritto al canale. Iscriviti al canale. E se hai una qualsiasi domanda. Lascia un commento. Grazie. Al prossimo. Iscriviti al canale. Iscriviti al canale. Iscriviti al canale. Iscriviti al canale.